buon pomeriggio eccoci qua grazie per essere venuti a questa dibattito discussione il libro lo avete visto lo conoscete grazie Sandro Veronesi grazie Edoardo De Angelis e faccio una brevissima sinossi di questo libro che vi dico subito è un libro patriottico lo dicevamo prima di di entrare qui nella sala per discuterne patriottico in un senso che non corrisponde al sentire di oggi patriottico nel senso che appunto esalta quelli che sono sono stati i valori fondamentali del nostro essere italiani e sui quali abbiamo costruito l'italia con i suoi valori civici e repubblicani nel 48 quando è nata la nostra costituzione sulle macerie del fascismo e della guerra e il libro racconta appunto le vicende del comandante Salvatore Todaro non so se voi conoscete la storia io personalmente non la conoscevo è stato veramente commovente ripercorrere le tappe di questo soldato lo dico proprio rapidissimamente poi entriamo subito nel vivo Salvatore Todaro era un comandante di 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 sommergibili nella seconda guerra mondiale subisce prima di imbarcarsi sul sommergibile cappellini un un grave ferimento in un'altra missione militare quindi busto di ferro e nonostante questo va continua e il il 28 di settembre si imbarca sul suo sommergibile cappellini e inizia una missione militare parte attraverso lo stretto di gibilterra e si avventura nell'oceano atlantico varie vicissitudini bombardamenti bombe che colpiscono il sommergibile in profondità incontri con i caccia inglesi infine l'incontro fatale con una nave di non chiara matrice il il comandante decide capisce che è una nave che ha una missione forse militare la colpisce con i suoi sommergibili con i suoi siluri scusate la nave affonda e il comandante todaro fa una cosa che un tempo di guerra non esisterebbe e nessuno avrebbe mai fatto e cioè dopo aver affondato quella nave si preoccupa di salvare le persone che ci navigavano sopra si scopre poi che è una nave belga per l'appunto si scopre ancora più tardi che quella nave effettivamente trasportava materiali utili alla guerra in quel caso del nostro nemico ma insomma arrivo rapidamente all'epilogo aspetto più straordinariamente sorprendente ed edificante della vicenda di di todaro appunto che dopo aver salvato e dopo aver bombardato e affondato quella nave salva l'equipaggio e la parte finale è questo incontro e questo saluto lì davvero commovente con con l'equipaggio della nave belga un saluto poi ne parliamo insomma è però il saluto tra tra militari e di straordinaria intensità e si conclude appunto con con le considerazioni che fa todaro rispetto alle domande che gli fa il comandante dell'altra nave perché ci ha salvato e lui gli risponde perché siamo italiani ecco adesso poi ve l'ho detta in maniera molto molto rapida naturalmente questa storia ha una valenza di straordinario interesse non solo appunto storico storiografico ma anche etico morale rispetto alle vicende che stiamo attraversando e quindi in questa premessa lo dico perché poi è il tema che mi piacerà sviluppare sia con sandro che con edoardo però intanto vorrei che sandro lo fa nell'introduzione al libro ci raccontasse come 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 gli è e vi è venuta l'idea di scriverlo e di fare poi o prima un film tra l'altro è quello il cui protagonista sarà Pierfrancesco Favino Sandro a te poi sentiamo edoardo allora era l'estate del 2018 e insieme ad altre persone con cui febbrilmente ci sentivamo e ci scrivevamo eravamo tutti d'accordo che appunto quello che stava succedendo non ci rappresentava come italiani stava succedendo che non solo venivano sfruttati gli accordi fatti precedentemente dai governi precedenti con la Libia per trattenere anche nei lager i migranti ma le imbarcazioni in difficoltà insomma lo sapete venivano accompagnate con degli slogan ma non lanciati dall'ultimo che passava per strada bensì ministeriali che erano la pacchè finita la crociera buon appetito ai pesci e questa reazione produsse niente produsse un innervosimento collettivo e collettivo significa proprio collettivo perché per la prima volta vita mia io mi sono non solo ho fatto l'attivista ma mi sono messo a capo di un movimento sono stato io a fomentare questo questo abbaio continuo che che ci scambiavamo in una chat nella quale ogni tanto arrivavano le notizie dalle ONG naturalmente erano sempre brutte notizie perché venivano fermate venivano ispezionate venivano boicottate venivano accusate venivano diffamate e noi eravamo un certo numero di scrittori registi giornalisti cercavamo di trovare un modo no di di rispondere e però con quello che era il nostro mestiere quindi scrivere testimoniare metterci il corpo però poi continuare a fare quello che si faceva per cui magari alcuni avevano anche avuto la fortuna di incontrare un pubblico molto vasto e quindi avevano anche la possibilità a questo pubblico di dare una versione su cosa fosse essere italiani e intendo una cosa che poi magari dirà meglio lui perché è stato lui accoglierla nella frase di Todaro siamo italiani quel siamo italiani detto a un belga al belga è suonato come siamo belgi e il fatto che questo siamo italiani non l'abbia detto con con l'alterigia di chi dice io sono superiore a te no ha fatto risuonare il patriottismo in tutti come vedremo poi insomma questa bolla che Todaro ha creato ha salvato anche i nemici anche gli inglesi che poi quando lo intercettano lo lasciano passare perché siamo inglesi capito quindi siamo italiani nel quale mi riconosco molto perché non è sovranismo è siamo quello che siamo siamo duemila anni di storia come ce l'ha anche il belgio come ce l'ha anche l'inghilterra e insomma in quell'essere italiani frustrati esce un giorno una un pezzo di nello scavo io ricomincio a conoscere nello scavo adesso ovviamente è sotto protezione perché è uno che fa veramente il suo mestiere e quindi rischia però nello scavo riporta con compiutamente su avvenire è un gesto altrettanto coraggioso in quel momento quanto fu il gesto di Todaro di giovanni pettorino ammiraglio della guardia costiera in quel momento comandante della guardia costiera che in occasione della centoventitresima ricorrenza della fondazione la guardia costiera uscendo dal discorso che aveva consegnato alla stampa aveva scritto e consegnato c'erano le autorità non so se c'era addirittura Salvini e uscendo a quel discorso il suo abbraccio in particolare ai suoi uomini che erano particolarmente confusi dal dover negli ultimi mesi cambiare proprio completamente comportamento prima soccorrevano adesso non potevano più soccorrere nella zona sa dovevano lasciar fare polemizzare i maltesi ma lo dice anche alle autorità presenti responsabili anche di questo cambio di rotta ricordiamoci che noi siamo la marina italiana dice siamo la marina di Salvatore Todaro e riassunse in breve la vicenda di Todaro non certo per i suoi perché Todaro nel mondo militare è molto conosciuto medaglia d'oro due d'argento tre di bronzo sembra Federica Pellegrini al valore militare è morto due anni dopo questa vicenda in mare non certo per i suoi ma per le autorità non dimentichiamo chi era Todaro e lo scavo lo riporta completamente lui lo legge mi chiama e dice questa storia per le ragioni che poi lui dirà oltre al fatto che era esattamente ciò che pensavamo di dover fare in quel momento ma poi è quello che dovevamo fare era anche trovarci una nostra motivazione e non soltanto brandire Todaro per contrastare un fenomeno così volgare come quello che si stava verificando ma anche andare in fondo a questo personaggio perché siamo persone che devono fare un lavoro creativo non possiamo limitarci soltanto a sbandierare le cose lui aveva trovato subito una chiave per interpretare quel gesto in senso assoluto e non solo legato all'attualità quindi sì voglio fare voglio farci un film che in quel momento insomma sembrava un bel impegno perché è un film di guerra questo film è stato girato non è finito però è stato fatto ma in quel momento a me sembrò ho detto va bene va bene sì scriviamo la sceneggiatura ma la cosa che proprio fu un ditone puntato su quel progetto fu scoprire che in quella chat che avevo messo su così come si invita la gente a un compleanno avevo preso tutti quelli che conoscevo io che mi sembrava fossero sensibili c'era una ragazza una donna che io conosco da tanto tempo che si chiama Jansbin Barabadi e che fa la promotrice di gruppi musicali per lo più in Toscana, Livornese e che sapevo essere una insomma infatti anche lei si era messa lì soprattutto a organizzare la lista degli imbarchi perché ci volevamo imbarcare e un giorno lei mi contatta privatamente mi dice ma pensi che posso postare questo nella chat ed era un articolo da lei ispirato sulla cronaca di Livorno del Tirreno nel quale si parlava di suo nonno e suo nonno era Salvatore Todaro gli ho detto scusami abbi pazienza di lui un po' questa roba qua poi ho chiamato lui e tre giorni dopo i bauli del nonno venivano aperti perché lei viveva ancora nella casa vive nella casa dove Todaro è vissuto fino a che non è morto a Livorno e dentro questi bauli c'era il Todaro privato e nel Todaro privato abbiamo trovato il vero Todaro perché abbiamo capito che lui era un guerriero anche nonostante un tenero amore per la moglie, per questo figlio piccolo era comunque un uomo votato alla morte probabilmente fedelissimo al suo re, non era fascista, era monartico ma era il re, gli ordinava di combattere lo stato fascista e lui lo faceva era un assaltatore ma era anche un uomo di grande tenerezza e di grandi interessi spaziavano dallo yoga all'occultismo, studiava il farsi da solo, la lingua persiana uno dice perché? Ma la sua figlia che lui non ha mai conosciuto, la mamma della mia amica ha sposato un ingegnere iraniano, ecco perché la mia amica si chiama Barabadi e il suo padre che non l'ha mai conosciuta quella lingua l'aveva studiata era conosciuto nell'ambiente della marina militare e soprattutto i suoi sottoposti come un uomo che aveva poteri divinatori, che indovinava sempre a quale profondità dovevi passare per scansare le bombe di profondità, che sceglieva bene e in certi casi in guerra è proprio una scelta binaria, 0-1, se sbagli sei morto e lui riportava sempre a casa l'equipaggio eccetera quindi abbiamo visto dentro questi bauli quello che i libri che si sono occupati di Todaro e della sua vicenda non avevano potuto vedere e questo ha dato corpo ovviamente al personaggio al progetto del film e poi diremo come si è passati dalla sceneggiatura al romanzo e come di nuovo dal romanzo poi alla sceneggiatura Sì, allora come ha spiegato Sandro già da qui si capiscono quanti fili il destino alla fine abbia intrecciato per arrivare a questo libro e al tuo film Edoardo e faccio anche a te la domanda che abbiamo fatto adesso a Sandro perché Todaro? Cosa ti ha colpito? E com'è stato, com'è tuttora il girare il film rivivendo la sua straordinaria avventura? Io desideravo fare un film che parlasse di forza ero disgustato come sono disgustato tuttora da un'idea di forza che vedevo attorno a me declinata nel senso della sopraffazione della prepotenza e dell'angheria quindi quando mi sono imbattuto in questa storia che mi ha fatto vedere come l'uomo veramente forte è quello capace di tendere la mano più debole ho pensato che questa fosse l'incarnazione più pulita più cristallina dell'idea di forza che io stavo cercando per il mio film in più questa storia mi ha riconciliato con l'idea con la mia identità nazionale io sono un uomo del sud qua stiamo proprio, come dire, nella terra che ha annesso i territori del sud e poi a un certo punto hanno detto che l'Italia era stata unificata non ci ho mai creduto a questa vicenda però ho sempre creduto al fatto che gli italiani esistessero davvero pur nella loro natura di crogiolo di bordello meraviglioso e prudrido nella loro natura così indifferente nelle loro caratteristiche così eterogenee in quanto a lingua, cultura, temperamento ecco, gli italiani secondo me esistevano ed esistono e anche questa declinazione di esseri italiani che all'epoca imperava e adesso non è del tutto estirpata mi disgustava tutto la vita non mi piace l'idea che un italiano debba essere qualcuno che costruisce i muri per intanarsi dentro la propria nazione non mi piace l'idea che un italiano debba essere qualcuno insensibile davanti alla morte di qualcun altro non mi piace nemmeno l'idea dell'accoglienza a tutto spiano mi piace invece laddove questa idea di piacere riguarda un votimento profondo mi piace un comandante che va in guerra e cannoneggia in emersione e affonda il nemico senza paura e senza pietà però poi l'uomo lo salva ecco l'idea di un uomo forte che non infierisce contro il nemico non si tira indietro davanti ai suoi obblighi di soldato ma non infierisce davanti sul nemico in erno perché quell'individuo una volta che ha perso una volta che è stato sconfitto e un uomo deve essere salvato se non c'è nessun altro motivo di credere ecco perciò trovo che la vicenda di Salvatore Totoro sia la perfetta incarnazione di un uomo forte italiano che porta su di sé il peso leggerissimo di 2000 anni di storia di civiltà ecco poi torniamo perché è il cuore del libro del racconto e anche vorrei della nostra discussione alla questione di salvare o non salvare le vite in mare ma evidentemente neanche solo in mare però prima vorrei ancora soffermarmi sull'Italia perché il libro e il racconto sono articolati attraverso le voci dei vari protagonisti che si trovano a bordo di questo sommergibile le cappellini le parole più belle più intense sono quelle ovviamente del comandante quando si rivolge a sua moglierina e ci sono le frasi davvero più commoventi lo dico senza lo raccontavo a loro prima di entrare qui ma insomma in più di un punto del libro mi sono sinceramente commosso poi però ci sono tutti gli altri c'è Anna l'infermiera che è siciliana Marcon l'aiutante di bordo che viene dal Veneto ciascuno di questi tende a parlare col suo dialetto e poi c'è Schiassi il marconista Stumpo e Gigino il cuoco che è napoletano Mulargia che è sardo insomma in questo sommergibile c'è davvero l'Italia e la cosa bella è che ovviamente il comandante governa il suo sommergibile da guerriero e da comandante qual è e però a bordo di questo sommergibile appunto si sentono tutti ugualmente italiani intanto ne riconoscono non soltanto la superiorità gerarchica ma anche quella etico-morale se vogliamo e però ecco si respira nel crogiolo di culture e di e di dialetti che ci sono sul sommergibile un'Italia e questo voglio chiedere a Sandro adesso che oggi faccio fatica a ritrovare sbaglio? è la guerra che unisce in quel modo? no forse no io credo allora anche allora era la guerra perché la guerra porta almeno con quei ragazzi lì porta con sé la lingua italiana la lingua italiana è la lingua degli ordini bisogna conoscerla loro la conoscono per questo non la parlano tra di loro parlano nei loro dialetti e quindi naturalmente un trentino e un siciliano non parlano tranne che se uno deve dare l'ordine all'altro e nei sommergibili in particolare il momento veramente duro per questi qua è la lunga navigazione per il Mediterraneo o i lunghi giorni in Atlantico dove non incontri nessuno quello era veramente la cosa abbrutente la cosa che viene e l'abbiamo visto e trovato nelle cronache di tanti sommergibilisti che dicono che proprio la guerra portava almeno il combattimento sono morti quasi tutti i sommergibilisti italiani diciamolo però loro lo sapevano e se non lo sapevano c'erano l'incoscienza dei ragazzi di vent'anni però quello era il momento in cui erano italiani c'era una lingua sola che era quella del comando la catena di comando non c'erano dialetti non c'erano lingue il resto e comprimerlo dentro questo specie di guardate era lungo 70 metri ma era largo tre e poi di essi 70 metri più della metà erano occupati dagli apparati per cui erano proprio compressi lì dentro e quando c'era l'ordine allora si stava in ordine ed era l'Italia quando non c'erano ordini perché c'era soltanto era una malaria e viene detto da molti di questi personaggi allora noi che abbiamo fatto abbiamo preso la lista dei nomi veri di questo equipaggio perché di cappellini parlano i libri di storia di un certo ufficiale di tiro lesa in Dastone parlano i libri di storia che è diventato un ammiraglio ma degli altri no degli altri non c'è c'è solo questa lista con la data di nascita il luogo di nascita e la funzione cannoniere silurista capomacchinista eccetera e queste città dell'Italia piccole cittadine della 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 Sardegna spersa oppure molti erano campani però c'erano molti anche veneziani e friulani perché sono tutti luoghi dove c'è molta consuetudine con la marina abbiamo preso è una specie di Spoon River no abbiamo fatto parlare questi che se non sono morti come le Senda Stone sono stati fortunati perché se no sono morti li abbiamo fatti parlare invece di dire io chi sono e che cosa ho fatto come Spoon River persone però dolcissimamente anonime e quindi era prodigioso sentir parlare questi nessuno della loro vita che non c'era più li facciamo parlare del comandante e cioè li facciamo portare avanti la storia per quel tratto in cui loro sono protagonisti ma anche forse e spesso è un passaggio di un'ora e il loro sguardo allora viene fuori anche la loro lingua il loro dialetto e la difficoltà che qualche lettore incontra a capire tutto senza che noi gli abbiamo dato la traduzione senza sottotitoli senza sottotitoli è voluta per il fatto che quella difficoltà di capirsi viene anche un po' riprodotta e se non si capisce tutto così era così era quando invece che gli ordini e la guerra e la catena di comando veniva fuori l'umanità e quindi la guerra e il momento bellico era tenuto insieme dalla lingua italiana dall'essere italiani e dal credere perché questi ci credevano nessuno era un davativo lì la malaria tutta questa questa navigazione nel Mediterraneo invece faceva venire fuori la giovinezza questi erano ragazzi e la cosa che li teneva insieme è anche questa l'abbiamo scoperta studiando queste carte soprattutto le cronache che ha fatto Monelli per il Corriere della Sera ha fatto delle cose meravigliose incontrando tutti i comandanti superstiti dopo la guerra di sommergibili e tutti dicono che c'era questa specie di di consolazione quotidiana perché questi sommergibili navigavano in immersione durante il giorno ma poi la sera tutte le sere tutte le notti dovevano riemergere per fare il piano dell'aria per ricaricare le batterie perché andavano in superficie con motori diesel e invece sott'acqua con motori elettrici e quindi dovevano passare la notte in superficie e allora si captava questa radio andorra che era una radio potentissima di uno stato sovrano che non poteva essere oscurata dunque di cui si favoleggiavano ripetitori immensi in immense piattaforme nel mare invece no però che copriva tutto il Mediterraneo e tutte le nà in mare la notte ascoltavano la radio andorra che era l'unica radio al mondo che prima guerra non parlava di guerra ma trasmetteva canzoni d'amore per lo più americane per lo più cantate da donne e allora la notte questi ragazzi di giorno anelavano a dimostrare di essere italiani e l'unico modo era il combattimento perché se no non si capiva ma la notte ritornavano ragazzi e si abbracciavano insieme ai ragazzi inglesi perché tutti sentivano la radio andorra almeno nel Mediterraneo tanto che quando questi vanno fuori riescono a passare e la radio andorra non c'è più diventa veramente dura la fase la fase notturna che non vedi niente non c'è nessuno non si combatte più ma che è questa roba l'Atlantico è grande in Mediterraneo c'era questo abbraccio collettivo di cui abbiamo letto e che abbiamo a questo punto con questo nome cognome data di nascita luogo di nascita l'abbiamo l'abbiamo messo a disposizione di questi ragazzi che sono italiani sono siciliani ossardi ma sono ragazzi e hanno bisogno di tutto sono appena usciti dal nido molti hanno ancora bisogno di essere accuditi e sono lì a morire capito e anche quella presenza che abbiamo messo all'inizio quella inventata della infermiera Anna è proprio lo sguardo delle donne di tutte le donne che non hanno mai capito ma che non si può risolvere in un altro modo ma la guerra davvero che ne fa che gli fanno lo zaino ai propri figlioli ma questo zaino dopo due giorni chi te lo rifà questa idea dell'accudimento finisce tutto la guerra fa finire tutto e niente più e nessuno più che le donne lo sa proprio perché a loro non era nemmeno fatto in quel tempo il permesso di farla la guerra quindi loro è come se fossero quelli che impazziscono dentro al sommeggibile perché la guerra non ce l'hanno e non capiscono allora noi abbiamo messo lì questa ragazza che li vede partire e che si rende conto di essere tutte le madri e tutte le sorelle tutte le morose che non possono starci alla spezia a vederli partire e che però lei ha questo questo ruolo capito e quindi abbiamo lavorato anche con molta tenerezza su questi personaggi laddove dovevamo inventare abbiamo inventato dei piccoli pezzi di strada fatti sotto la loro guida naturalmente però a raccontarci loro quel pezzo di comandante che li sta portando vivi e vegeti al termine di una missione in realtà sono due noi li abbiamo fuse insieme per due volte l'ha fatto Todaro di salvare il nemico che li fa passare alla storia pure loro insomma questo questo cappellini è un sommergibile che si distingue dagli altri perché è stato onorato da queste missioni alle quali anche loro hanno partecipato ecco infatti Anna l'infermiera è quella che spiega nel libro quanto è fetente la guerra così come la ragazza che canta e parla attraverso Radio Andorra è quella che distribuisce dolcezza ai marinai a bordo del sommergibile ecco da quello che però diceva Sandro ho come quasi l'impressione che noi riusciamo a essere italiani solo se c'è un evento esterno che ci spinge a riconoscerci in un'unica identità in qualche modo tu lo dicevi prima ed è un hai citato un pezzo del libro quando appunto a valle di tutte queste diverse testimonianze dei marinai anonimi che però hanno fatto insieme questo pezzo di storia voi scrivete questo bordello meraviglioso e putrido che è l'Italia la descriveresti ancora così oggi l'Italia Edoardo siamo ancora quella roba lì oppure no sicuramente si è voluto si è voluta la modalità della convivenza per certi versi per certi altri versi si è involuta se non altro rispetto all'epoca c'è una scolarizzazione superiore e più persone dispongono come dire di una dimestichezza con la lingua ufficiale però per me permane questa caratteristica di crogiolo permane perché esplorandola molto all'Italia vedo che ad ogni metro c'è una differenza c'è una ricchezza che è basata proprio sulla differenza perché la differenza dell'insieme di differenze che costituisce la nostra identità che per continuarsi ad evolvere deve succhiare sempre più differenze e quindi sicuramente è diversa però è anche come dire sempre un bordello questo soprattutto ecco passiamo adesso alla fase che è quella cruciale anche perché è quella che parla di più guardate non lo so mi viene da dire che è un libro a orologeria perché esce in un momento nel quale appunto con le vicende la tragedia di Cutro che ci ha scosso tutti e ancora quella di domenica scorsa mi sembra abbia purtroppo le stesse caratteristiche anche se avvenuta più lontano dalle nostre coste ecco quando il comandante Todaro affonda il piroscafo cabalo il piroscafo belga appunto il piroscafo va a fondo e cominciano però ad arrivare o con le scialuppe o in acqua a nuoto i belgi che erano a bordo di quel piroscafo e Todaro parlando con sua idealmente con sua moglie Rina osserva e con il cuore stretto dice Rina sono uomini come noi e lì c'è un passaggio molto molto bello in cui tutti i vari componenti dell'equipaggio vedono la stessa scena vedono arrivare verso il sommergibile questi uomini come noi e cominciano a chiedere comandante che facciamo comandante che facciamo comandante e Todaro aspetta un po' c'è questo pathos che cresce perché che facciamo andiamo via li lasciamo e lui dopo una pausa studiata forse o comunque macerandosi nel suo intimo a un certo punto dice tirateli su e vengono tirati a bordo per l'appunto è già la scelta a tutto il carattere eversivo che si può immaginare durante una guerra e però ecco perché parlo di un libro orologeria una volta che sono a bordo ragionano diventano correggetemi se sbaglio 75 a bordo di quel sommergibile quindi una quantità di persone che non li poteva neanche reggere quasi e cominciano ovviamente Todaro e gli altri a interrogarsi dobbiamo portare verso il porto più sicuro e più vicino e insomma mentre leggevo mi risuonava tutto nella testa tutto nella testa Sandro anche a me e ti dico la verità loro che sono andati veramente nel porto più vicino sicuro addirittura neutrale in guerra perché questi che avevano raccolto erano dei civili quella era una nave civile armata li avevano anche sparati addosso questi civili belgi quindi avevano tutto il diritto di affondarli però erano civili quindi non erano prigionieri e il più vicino era Santa Maria delle Azzorre che era a 600 miglia una follia ma in Atlantico sono 600 miglia non sono neanche tante e che vuol dire siccome sono sovraccarichi eccetera e devono andare in superficie perché hanno 12 persone in torretta che affogherebbero tre giorni e tre notti dove l'hanno mandate le ONG da Mar Livico alla Spezia è di più è di più di quello che dovette fare Totaro avendo lì tutta la Sicilia la Calabria la Puglia tutto la Campania alla Spezia a Ravenna l'hanno mandate ecco lì capisci che c'è un qualcosa di perverso perché la legge che rispetta Totaro in guerra è anche a a tutela del salvatore perché guardate io ci sono stato sulle navi di ONG Open Arms è proprio piccola le altre sono grosse ma quelle grosse hanno centinaia di persone ma pure la nave 18 della Guardia Costiera che fu tenuta in porto ferma per 11 giorni con l'equipaggio dentro pure quelli che salvano sapete soffrono non è che soffrono solo quegli altri soffrono di più perché stanno scappando ma durante il salvataggio deve durare il meno possibile perché è un trauma è un trauma se te vedi gli occhi di questa donna che ha perso il bambino tu te ne occupi ma non sei un assistente sociale sei un marinaio sei una persona che non ha gli strumenti per oltre che salvarla levarla dall'acqua e metterla all'asciutto confortarle queste persone che è quello che succede poi nel cappellini perché questi ragazzi erano pronti a morire se il loro comandante li avesse detto all'assalto e quando glielo dice loro vanno ma non erano preparati per convivere stretti appiccicati perché dentro a quella scatola di sardine non c'era più spazio con il nemico per loro era il nemico questi li avevano sparati addosso era morto uno non avevano mica nessuna preparazione per fare questo e Todaro lo sa ed è anche un po' preoccupato gli fa un discorso per fargli capire che gli ordini gli da lui ci sono sì c'è la direttiva numero 571 dell'ammiraglio Donitz dice che bisogna lasciarli lì ma qui c'è Donitz no qui ci sono io e c'è il buon Dio che come l'ho conosciuto io lui dice quando ero a Chioggia con Don con Tolina è d'accordo con me questi li pigliamo li facciamo dormire un po' a turno ci sacrifichiamo e li facciamo e li facciamo sbarcare d'accordo poi poi dice Todaro io risponderò ai miei superiori di questo che ho fatto ma perché perché tutti ti chiedono a lui comandante cosa facciamo comandante cosa facciamo cioè se lui gli avesse detto sparategli loro li avrebbero sparato se gli avesse detto gira e andiamo via loro sarebbero andati via non avrebbero protestato perché c'è una catena di comando e lui si era meritato in anni di servizio tutta l'autorevolezza con la quale dava gli ordini perché venissero eseguiti quindi comandante che facciamo certo a me suona probabilmente come comandante non li lasceremo mica qua però è io sono solo un occhiere di bordo io sono solo sei tu che decidi gli ordini li dai tu tu qui sei padre eterno che decide se queste persone devono morire o rimanere vive comandante che facciamo e c'è un altro comandante a un certo punto che deve fare la stessa scelta ed è il comandante inglese quando una non so come si dice non pattuglia una piccola flotta di navi inglesi intercetta perché naturalmente intorno alle isole nell'Atlantico c'era c'era movimento di navi per controllare anche se le azote erano neutrali e lì trovano questa specie di blocco navale inglese e l'inglese anche a quel punto si ritrova a dover fare lo stesso ragionamento perché c'è questo papale papale mi dice io sto portando questi 26 naufraghi a terra chiedo che mi facciate passare stavano sparando che ci siate il fuoco che ci fate passare con la calma dei forti Todaro senza neanche parlare l'inglese che sapeva perché tanto dicevesti la conoscono bene l'italiano dovevano fare le comunicazioni con la base in sardo campidanese per non essere intercettati quindi lo sanno glielo dico in italiano e fatevi per piacere fatevi da parte che dobbiamo passare e questo altro comandante che è il secondo comandante che figura in questa storia e cosa deve fare lo deve sparare lo deve affondare ammazzando non soltanto i 70 i 70 italiani i 50 italiani ma i 26 anche naufraghi no anche lui dice cessate il fuoco li fa passare e e si compie questo questo gesto che da individuale diventa collettivo diventa collettivo tutti si salvano in quel gesto lì ed è una bolla che dimostra in piena guerra ed è un fatto vero se l'avessi dovuto inventare per dare un messaggio non ci sarei arrivato a inventare una cosa del genere invece in piena guerra si crea una bolla e ci si accorge che sono tutti d'accordo se ne stanno dando di santa ragione se ne daranno per tutti 5 anni in maniera atroce e tutto lo volete però se c'è un'occasione anche soltanto per 24 ore di farci vedere gli uni con gli altri che siamo marinai quindi rispettiamo le leggi del mare siamo uomini e rispettiamo l'umanità degli altri lo facciamo dopodiché si ricomincia a fare quella fetenzia che è la guerra e che soprattutto per i nostri ragazzi è stato un disastro sono stati quasi tutti ammazzati i sommergibili sono stati quasi tutti affondati in una poi successione di sconfitte di disfatte che fu spiegata alla fine è stata spiegata il fatto che gli inglesi non riuscivano a decodificare il sardo campidanese però avevano decodificato quel codice enigma dei tedeschi con Alan Turing quella roba là e quindi sapevano dove si trovavano le navi molto semplicemente io ho anche letto delle cose che ci sono state dopo di questi fascisti irriducibili che non volevano ammettere che l'avversario ci fosse stato superiore non fosse altro per questo e che hanno accusato per anni i loro comandanti gli ammiragli di avere loro detto agli inglesi dove si trovavano le navi per farsi ammazzare per farsi ammazzare i ragazzi cioè a non voler uscire da quella pozza anche quando quella pozza era prosciugata come hanno scelto di fare alcuni si è rimasti in quel torto che finché era il tuo paese il tuo popolo hai eletto questo primo ministro insomma avrà torto ma io lo lo servo come fa Todaro ma dopo no dopo quando si è visto che è finita tu continui a servire quello no lo dico perché oggi c'è un manager che si è dimesso perché l'hanno beccato che aveva copia e incolla il discorso di Mussolini che si accolla la responsabilità dell'omicidio di Matteotti e lui dirigeva un'azienda di comunicazione ma siamo matti ma le stesse parole ha sostituito a fascismo i tre perché era i stat che erano tre aziende ma che siamo matti davvero ma con tutto quello che puoi copiare e incollare già fai una figura di merda se ti beccano a copiare e incollare Gandhi ma te vai a copiare e controllare Mussolini ma è chiaro che ti butti ti butti da solo nel cesso non è possibile che ci sia ancora gente che vuole quel torto lo vuole ancora addosso quel torto ce lo siamo levati onorevolissimamente perché perché non li abbiamo ammazzati tutti come chiede quel contadino quella memorabile pagina di Fenoglio di una questione privata che si raccomanda a Milton il quale sta pensando a tutt'altro sta pensando a Flavia e al fatto che possa aver fatto l'amore col suo amico però questo gli dice ammazzate di tutti ammazzate di tutti non ne deve rimanere uno devono morire i preti tutti devono morire dovete uscire da questa guerra quando avrete vinto con sporchi di sangue fino alle ascelle gli dice e in quel momento tu non li puoi dar torto a quest'uomo che è lì che sta guardando i fascisti cosa fanno perché se vengono verso di lui razzieranno la sua casa la sua cascina però pochi anni dopo questo stato d'animo che Fenoglio riporta noi abbiamo 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 varato una delle più belle e delle più evolute costituzioni abbiamo abolito la pena di morte non li abbiamo ammazzati tutti li abbiamo anche lasciati liberi un po' troppo presto perché Junio Valerio Burghese forse tenerlo un po' più al gabbio avrebbe fatto meno danni ma insomma abbiamo dato una lezione abbiamo sconfitto quel torto con la ragione alla fine la ragione ha prevalso e quindi questa cosa che non si non si accetta non si accetti che c'era un torto e c'era una ragione e non ci si pacifichi mai per me è veramente ma come ancora con Mussolini ma non ci posso credere e invece oggi a parte la russa ma ancora con Mussolini ma perché questa è una domanda non so rispondere beh io ha preso un po' la mano sì possiamo ce la possiamo permettere Edoardo una piccola digressione sul fascismo io non penso che per essere chiari con la nuova stagione politica che è cominciata ci siano le camicie nere che si preparano a marciare su Roma però succedono cose succedono fatti e voglio sentire anche appunto su questo Edoardo cosa pensa che ti fanno venire qualche dubbio ma non pensando che l'Italia possa scivolare di nuovo nella dittatura non è questo il punto e la difficoltà e l'importanza di questi libri secondo me che risalgono ad una stagione precisa della nostra storia è legata proprio a questo la nostra difficoltà a riconoscerci in una memoria condivisa e in una storia condivisa la storia cantava al grande dei Gregori la storia da torto e da ragione però in sede storica il torto e la ragione si possono attribuire no? si devono attribuire perché se non c'è questo passaggio appunto può succedere che un manager di un'azienda prenda poi il testo appunto di Mussolini su Matteotti non una roba che riguardava le bonifiche dell'agropontino no l'assassinio di Matteotti allora questo è solo l'ultimo degli episodi ma se vogliamo ripercorrere quest'ultimo periodo e questi ultimi mesi gli episodi ce ne sono tanti lo accennavi tu Sandro abbiamo un presidente del senato è la seconda carica dello stato che conserva nel suo salotto di casa il busso di Mussolini e non lo rinnega anzi lo rivendica è andato a Gerusalemme a Yed Vashem nel museo della Shoah dove arde la fiamma eterna e imperitura in memoria dello sterminio degli ebrei Fini l'aveva fatto 15 anni fa uscendo da quel museo e dicendo da quel museo chiamiamolo museo e dicendo una parola definitiva che sembrava definitiva e cioè il fascismo è il male assoluto e la stessa domanda è stata fatta alla russa all'uscita da Yed Vashem e lui ha detto questa domanda non rispondo è scappato via allora per carità sono tutte piccole cose dopodiché questi poi fanno il karaoke e cosa cantano di Andrè ecco la canzone di Marinella che muore per annegamento tra l'altro cioè allora c'è qualcosa che ci unisce tutti De Andrè bene allora bene se siamo tutti d'accordo su De Andrè sai calci in culo che partono ma veramente perché dobbiamo seguire De Andrè allora se dobbiamo seguire il suo magistero visto che vi piace che lo cantate anche in un momento così disastroso bene andiamo dietro a De Andrè vai ci penso io Edoardo che dici di tutto questo di questa parte del ragionamento che stiamo facendo la percezione che ci sarà una sorta di legittimazione dell'idiozia io penso che si andiamo ad interrogare il nominabile manager il nostro sarei molto curioso di fare una caratterata mi sembra che il gesto abbia assunto i toni della marachella come se non avesse non ci fosse la perfezione della gravità di certi gesti però poi fanno male davvero fanno male lo stesso e quindi la cosa che più mi spaventa è questa attitudine superficiale a generare gesti che fanno male da un lato mi spaventa dall'altro mi fa nutrire la speranza che questi gesti che sono epidermici o comunque spasmi possano essere debellati più facilmente che se fossero invece radicati in un pensiero proprio e del karaoke che mi dici? dico imbarazzo basta solo questo? mi sembra semplicemente che ecco c'è una questione estetica legata al gesto politico che va tenuto in grandissima considerazione quando l'estetica è goffa ed è quando l'immagine è brutta è intollerabile anche il pensiero è brutto intollerabile quindi questi corpi che si muovono sgraziati queste intonazioni queste vociacce sì come di improbabili questo ingopirsi come non so per creare quale tipo di sonorità strana baritonale ma emette più che altro un suono viscerale ma che dovrebbe essere espulso non dalla bocca ecco tutto questo genera un'estetica è intollerabile questo questo mi fa come dire mi disgusta io aggiungo ti rilancio la palla Sandro quello che io vedo e temo per alcuni versi mettendo insieme anche i fatti di cui stiamo parlando è la grande banalizzazione che noi rischiamo di fare di certe cose ripeto premesso che per tornare al fascismo nessuno immagina che stiamo per scivolare di nuovo nella dittatura però questa tendenza a voler considerare qualunque episodio di questa natura appunto dal manager che fa il copio in colla del discorso di Mussolini alla russa che c'è il busto e poi gli scelmati e gli scelmati e gli scelmati la dividenze ma esatto diciamo le risse e le aggressioni squadristiche fuori dalle scuole che vabbè ma insomma una ragazzata sono risse tra studenti il karaoke vabbè ma che non si può manco fare il karaoke adesso ma senza capire che lì il problema o con tutta evidenza non era che il presidente del consiglio il suo vice presidente del consiglio facessero il karaoke il problema non è quello che hanno fatto quella sera è quello che non hanno fatto nei giorni precedenti perché se il giorno prima quando sono andati a Cutro avessero avuto la pietas di deporre un fiore su quella spiaggia o di fare una carezza ai poveri sopravvissuti di quella tragedia e vabbè dopo una sera dopo c'era il compleanno del capitano il comandante il capitano e vabbè facciamo pure il karaoke forse sarebbe non se ne sarebbe accorto nessuno magari cantando Povia magari sì poi sarebbe stato meglio Cianno Povia cantassero Povia ecco però alla fine non è questo il vero problema cioè che finiamo per banalizzare tutto e nella grande banalizzazione appunto possiamo diventare qualunque cosa ma tu ricordi però Anne Arendt quanta quanta ostilità incontrò quando quando lei osò dopo aver seguito tutto il processo a Eichmann forse sbaglio il nome ma insomma è un problema più grosso la mia memoria sta andando e quindi sarebbe in meno comunque quando coniò questa cosa della baranità del male non fu certo presa bene da nessuna delle vittime di quel male tant'è vero che ancora ancora in Israele si vogliono sentir dire che il male è assoluto ma lei con uno sguardo molto moderno devo dire anche quasi preveggente aveva capito avevo visto in questi uomini che esercitavano questo male assoluto quotidianamente una banale routine come farsi la barba ed era l'unico modo per cui queste persone potessero farlo perché vabbè i gerarchi erano quasi tutti psicopatici marci veri e va bene quando sei psicopatico poi tu sei schizofrenico vero come Goebbels è difficile fermarti no sei al comando ma tutti questi sottoposti che poi hanno rimberga hanno sono tutti sempre giustificati dicendo io ho eseguito degli ordini sì ma l'hai eseguiti ogni giorno per tre anni e sapevi benissimo cosa succedeva a questa gente così come ogni giorno per tre anni ti sei fatto la barba ti sei hai avuto cura della tua persona e dei tuoi bambini perché ci vivevano tra l'altro e tra l'altro c'è stata Norimberga non ce la siamo sognata non siamo ancora qui a aspettarla Norimberga c'è stata c'è stata poi naturalmente c'è stato anche la caccia al nazista fatta dal Mossad e sono tutte cose che adesso alimentano più che altro per fortuna il nostro immaginario letterario cinematografico ma c'è stata Norimberga tra l'altro Dönitz che è l'ammiraglio che ha dato del Don Quixote e dei mari a Todaro mentre Todaro si becca le medaglie lui si becca dieci anni a Norimberga non per aver partecipato all'olocausto perché comunque lui non aveva fatto parte era un ammiraglio ma per come ha combattuto in Atlantico proprio per il modo in cui ha condotto i combattimenti evidentemente diverso da quello che teneva Todaro io credo insomma riuscì oggi sono molto orgoglioso perché sul Corriere della Sera c'è tra l'altro il primo vero editoriale che le canta giuste secondo la mia opinione a questo a questo governo così così inaccettabilmente incerto di fronte alle tragedie e che ridisce per l'ennesima volta rimette per l'ennesima volta alla chiesa al centro del villaggio e spiega cosa si sarebbe dovuto fare cosa non si è fatto bla 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 il concetto di soccorso soprattutto in mare che è centrale e lo chiude menzionando Todaro senza menzionare il libro ma qualcosa mi ha fatto molto più piacere che se avesse menzionato il libro qualcuno diceva vada lì fa il Corriere fa pubblicità al libro del collaboratore no che si è entrato un po' in circolo l'esempio di Todaro è esattamente ciò che mancava perché noi non lo sapevamo deve essere scritto sui libri di scuola come Enrico Toti con la stampella c'è Todaro quando non sai bene come orientarti c'hai Todaro cosa ha fatto Todaro così quindi si fa così perché l'ha fatto perché siamo italiani banalizzare anche il bene ogni tanto per combattere la banalità del male non sarebbe male cioè stare troppo profondi quando il male sguazza in superficie facciamo una cosa che valga sì il nostro libro è un libro ma facciamo un paragrafetto per le scuole medie su Todaro ok quello serve serve molto perché perché un bambino di 12 anni che sente il telegiornale dice ma come è un studiato ieri che si soccorre pure il nemico e qui lasciano schiantare contro la stacosta capito allora io penso che sia anche quello che noi ci raccontiamo noi siamo anche quello che noi ci raccontiamo di essere e c'è questa cosa anche un bel pezzo di Manconi c'è oggi che dice che questa è un'automanipolazione di molti della destra che a furia di ripetersi queste cose veramente sciocche poi finiscono per crederci davvero si autofanno il lavaggio del cervello che è una delle operazioni più stupide che si possano fare ma ahimè quando al luogo tu non la combatti altro che con armi altrettanto stupide devi riuscire a trovare una maniera di contrastare quella stupidità senza fare il famoso discorso ah sono ignoranti ah no lì è una specie di cosa che non funziona perché non ci rimetterebbe nulla nessuno a riconoscersi in Todaro nessuno come nessuno ci perdeva nulla tra tutti i ragazzi che erano lì e che dovevano sacrificarsi per eseguire il suo ordine alla fine sono stati tutti ricompensati e il fatto che sono ricompensati è dato anche da questa italianità che altrimenti è difficile da trovare sì le partite di calcio eccetera la marina italiana è fonte di italianità per tutti non solo in questo episodio anche in altri episodi dei quali io spero si occupi qualcun altro vorrei occuparmi non solo di marina ma se no bisogna farlo per esempio la butto lì non sto a perdere tempo a spiegarlo chi se lo ricorda se lo ricorda l'operazione dei boat people nel 78 due assetti navali italiani importanti mandati nel mar giallo da chi? da Andreotti e da chi? da Cosiga e mille più di mille boat people cioè vietnamiti cacciati da Vietnam perché compromessi con gli americani e lasciati lì perché nessuno li prendeva nessuno nella Malaysia nell'Indonesia nell'Australia e nessuno dall'Europa si fressero noi e si sbarcarono a Venezia con il porto di Venezia che li accoglieva con le sirene era il 1978 erano Andreotti e Cosiga ma è possibile che non arrivi a capire che il patriottismo vero quello in cui ci si riconosce fa molto più consenso del cattivismo che non so forse gli normani ma non lo so gli unni ma perché ti devi riconoscere in questi qua quando hai Andreotti ti dico Andreotti oh non mi ha detto Don Milani ho detto Andreotti insomma torniamo bisogna tornare ad Andreotti ma insomma torniamo alla questione fondamentale che secondo me è la memoria condivisa perché poi ecco molte delle cose che Sandro diceva potremmo prevenirle o curarle con una buona scuola perché poi educare i giovani a questi valori attraverso i fatti della storia sarebbe fondamentale torniamo però un attimo e volevo sentire Edoardo su questo il passaggio chiave del libro appunto quando il sommergibile passa tra la flotta inglese e il comandante inglese io pensavo che lo foste romanzescamente inventato ci siamo inventati le sirene ecco quello perché mi ha colpito quello è che il comandante inglese che dice fermatevi e suonate le sirene mentre passa per salutarlo oggi la guerra è sospesa e poi e poi Todaro parla idealmente di nuovo con la moglierina e dice oggi è un giorno fausto noi e i nostri nemici insieme ci siamo salvati però Edoardo appunto voglio tornare a quel tema là perché la cultura del mare in questo libro che poi diventa umanesimo possiamo definirlo no? ho come l'impressione che ce la siamo un po' dimenticata Todaro dice così si è sempre fatto in mare e così sempre si farà e coloro che non lo faranno saranno maledetti vuol dire che oggi siamo un po' maledetti noi non lo fai maledetto che esista una legge non scritta e superiore a tutte le altre leggi scritte alla quale ci si debba uniformare è qualcosa che rassicura anche l'essere umano in guerra gli esseri umani in guerra si sa si ammassano gli unico gli altri però che esista un momento una circostanza in cui le armi vengono deposte per per essere conformi a quella legge questo è qualcosa che ci fa ricordare anche in guerra noi abbiamo scelto la guerra perché il luogo in cui il conflitto non è latente come è latente il conflitto diciamo della quotidianità borghese ma si esprime in tutta la sua efferatezza in tutta la sua calattivere e potenza della stampa però abbiamo immaginato che davanti al gesto di un uomo che dice io questi qua mi sto portando in salvo perché perché si fa così perché in quest'idea di essere italiano nell'idea di essere umano questo è il motivo per cui anche gli attori belgi hanno partecipato con entusiasmo alle riprese del film l'attore inglese massimamente inglese ha partecipato con entusiasmo alle riprese del film perché in questo siamo italiani richeggia qualcosa che significa siamo umani e tutti quanti si possono riconoscere in quel momento in cui ci fermiamo e non ci ammazziamo perché saremmo ammazzando qualcuno di inerme non so quante volte statisticamente eventi del genere durante le guerre si siano verificati però a volte è successo e quando è successo i nemici e gli amici si sono salvati almeno per un momento la maledizione è una cosa pesante soprattutto perché è efficace e cosa è maledetto lasciamo stare chi ma quale gesto è maledetto il gesto maledetto è il gesto che non si conforma a questa legge universale Sì voglio chiedervi ancora una cosa su questo usando due slogan un mantra molto diffusi in questo momento che non è solo propaganda perché dietro c'è un problema reale intendiamoci io cerco sempre quando si ragiona di queste tragedie di distinguere le due fasi perché di fronte al fenomeno migratorio la reazione è questa perché si dice non possiamo accoglierli tutti la scissione diciamo etico-morale che io pretendo è questa cioè intanto li salvi poi quello che succede dopo lo vedremo ma intanto il tuo dovere è salvarli tutti tutti poi dopo vediamo se li accogli o non li accogli ma intanto li salvi e questo è il primo aspetto e il secondo aspetto che è anche questo molto ricorrente nel linguaggio di questa stagione è non devono partire aiutiamoli a casa loro Sandro come funziona funziona questa narrazione e qual è quell'alternativa però perché poi è anche legittimo chiedersi come si gestisce un flusso migratorio che ha secondo me a che fare con le epoche storiche per cui pensare di fermare il mare con un dito è illusorio ma tuttavia anche cercare di ripeto gestire il fenomeno è forse altrettanto obbligatorio per chi amministra la cosa pubblica cosa pensi? io penso quello che diceva prima Edoardo che non solo questo governo di la verità ma i governi che si sono succeduti negli ultimi anni quando questo fenomeno ci ha colpiti perché questo fenomeno della migrazione continua da tanto tempo la migrazione interna tra stati africani è una cosa incessante milioni di persone che si spostano da 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 un paese all'altro nell'Africa lo dice è ancora attuale i profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran diceva Abattiato 30 anni fa o 40 e ancora oggi ci stanno i profughi afghani che dal confine si spostano nell'Iran cioè questa cosa succede a noi adesso ma è sempre continuata a succedere in tutto il mondo perché appunto la migrazione è il gesto più diciamo il più comune di tutto il creato di tutte le le forme viventi non solo dei mammiferi no perché i germani continuano a passare di lì se dopo un po' imparalo che ti stanno aspettando dentro le botti e te sparano no perché perché comunque ci arrivano là qualcuno morirà va bene ma il nostro obiettivo arriva là e ci arriviamo ok allora queste sono cose molto strutturate molto serie e noi rispondiamo con una superficialità che non tiene proprio conto di niente la lingua che viene usata e quindi i concetti che portano questa lingua sono totalmente inutili cioè combattiamo gli scafisti gli daremo no come dice gli daremo la caccia in tutto il globo terraqueo agli scafisti ma gli scafisti sono dentro lo scafo li trovi lì scappano a nuoto se sono scafisti il più delle volte sono dei poveracci di migranti ai quali viene data una bussola in mano perché sono più svegli e gli danno il timone e questi sono scafisti ci sono i trafficanti i trafficanti è un altro discorso ma non li trovi in barca li trovi per esempio 50 giorni fa uno era seduto davanti al ministro piantedosi da pari a pari perché era il ministro trebelsi ministro dell'interno libico che ora al gabbio in Francia perché l'hanno pizzicato con una valigia piena di soldi con tanti perché lui sarà anche ministro però il suo lavoro è trafficare e trafficare in tante cose tra cui anche i duomi allora vuoi il globo terraqueo ma se va in Libia e dici senti te invece di riceverti da pari a pari come si deve a un ministro e non considerare nemmeno i parenti delle vittime cominciamo a fare la guerra a questi ma noi gli diamo le motovedette i soldi a questi che sono i trafficanti per l'iniziativa di Minniti mai mai interrotta dai ministri successivi quindi è bene chiamare in causa anche i precedenti ministri che hanno responsabilità noi traffichiamo con i trafficanti allora se dici il globo terraqueo vabbè allora nello scavo abbiamo detto nello scavo perché è sotto scorta poi vai in Ucraina dice la scorta dice aspetto qua vai vai in Ucraina poi torna ma quando è in Italia sta sotto scorta perché perché lui ha smascherato con delle inchieste giornalistiche fatte con i fiocchi i nomi e i cognomi di questi qua tra cui c'è pure Stotrebelsi gente potente che potrebbe benissimo prezzolare un commando per farlo fuori a Como dove vive e quindi viene dalla magistratura perché è la magistratura che decide il governo sulla protezione dalla magistratura è stato messo sotto protezione questo ha dichiarato guerra ai trafficanti nell'unico modo in cui può farlo un giornalista raccontando documentando e dimostrando chi sono facendo i nomi eccetera perché noi ce la prendiamo con questi scafisti i scafisti no l'abbiamo capito già ai tempi degli albanesi che gli scafisti non sono il problema che il problema sta là su quelli che te li mandano poi adesso c'è la brigata Wagner che adesso danno la colpa alla brigata Wagner cioè è una roba che veramente uno dice scusami ma su cosa lo basi questo che stai dicendo su cosa basi che le ONG sono il taxi del mare che si danno appuntamento con i trafficanti dove cazzo la trovi una pezza d'appoggio ci hanno provato a fargli dei processi non sono stati manco istruiti i processi hanno detto vabbè abbiamo perso tempo perché le ONG sono le uniche imbarcazioni che rispettano tutte le leggi scrupolosamente tutte anche quelle inutili chiamare la guarda costiera libica è inutile perché questo si è visto domenica quindi loro lo fanno loro lo fanno perché lo devono fare fanno tutto e non sono mica fessi e lo documentano perché a bordo ci stanno sempre troupe televisive americane spagnoli italiane un po' gasol e vabbè non è per farsi grandi è perché la testimonianza di queste persone o professionisti o delle figure un po' varrà perché se no devi dire che pure loro sono d'accordo con i trafficanti e questi ci sanno fare e in questo momento l'unico che sta sotto processo è il ministro allora dell'interno oggi delle infrastrutture Salvini in un processo contro di lui intentato da Open Arms per sequestro di persone gli ha tenuti 12 giorni sotto il sole a non farli scendere con della gente che aveva bisogno di cure perché veniva da una terribile esperienza quindi al momento con tutti i tentativi che sono stati fatti basati sul niente di criminalizzare le ONG l'unico che sta subendo un processo è il persecutore questo mi fa sperare anche che la magistratura sia orientata nel modo giusto però no però è quello Massimo cioè il problema è la totale inadeguatezza delle persone che possono anche non avere letto Conrad del Lord Jim se no dice ah è Radical Chic che parla sempre sì sono Radical Chic e quindi ho letto Conrad che ci posso fare e lì capisci subito perché in mare si deve salvare la gente perché la maledizione che c'è qui alla fine è quella di Lord Jim è quella lì però lasciamo perdere la letteratura e la roba Radical Chic parliamo da uomo a uomo no? ecco allora te stai finanziando quelli che la libera stampa italiana ha già non solo italiana ha già identificato come responsabili di traffico di armi di droga e di esseri umani ci stai facendo degli accordi che ti dovrebbero permettere di dire ah vedi adesso partono meno non è che ti stai occupando di loro li stai rinchiudendo in un lager dove questi sono in totale balia di vestiti che sono sadici spesso e quindi tu fai questo dopodiché non ne azzeccano una ma non ne azzeccano una perché su qualche cosa ti devi pure appoggiare no? se fai se fai un discorso bisogna pure che tu l'appoggi su qualche cosa non è che puoi fare un discorso così a capocchia sei un ministro rappresenti l'Italia non puoi fare così non puoi è il disonore perché Trump era un problema non erano mica tutti i radical chicchi gli americani però lui copriva di disonore l'America con quelle uscite con quei discorsi perché poi la sua politica alla fine non è mica stata tanto diversa dagli altri presidenti democratici e repubblicani era quello che diceva era quello che diceva che è la massima insicurezza dell'uomo di stato eh perché cosa dice Pilato quando gli dicono che deve modificare quel che ho detto ho detto e basta perché comando io ragazzi non è che dobbiamo stare a discutere a spiegare invece tutte queste parole che sono parole che auto ma proprio veramente lo dice Manconi oggi questa automanipolazione che è veramente io non lo so ma che bisogno hanno ma che bisogno hanno cioè hai vinto le elezioni hai una parte conservatrice in Italia che ha sempre vinto le elezioni adesso ce l'hai in mano te non c'è più Andreotti non c'è più tutta la gente che ti facevano trottare via 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 lontano però fuori dalla porta lì lascia fuori non entrare nemmeno e gestivano loro quel consenso lì adesso ce l'hai te ma chi trova a fare ma perché io questo non lo capisco perché mi fa molta paura mi fa più paura del fascismo mi fa paura questa pressapuchismo questo namportoquaism questa cosa dice ma io la dico ma come la dici pensaci pensaci dieci dieci secondi prima di dirla no la dico la dico la dico la dico e la dici ma no sei il ministro ci copri di disonore a tutti ciao